Siete collegati in diretta con lo stadio Giuseppe Neazza di Milano San Siro. Sta per avere inizio la partita di Coppa UEFA tra l'Inter e lo Strasburgo. Parte il calcio di punizione, Galante! Miracolo del portiere Wenzel. Splendido intervento di Wenzel su un gran colpo di testa di Galante. Giorcaef esce il portiere Wenzel. Rigore, attenzione, rigore su errore della retroguardia dello Strasburgo. Al tredicesimo l'Inter fruisce di un calcio di rigore. Ronaldo è sul dischetto. Tiro! Para Wenzel! Palla poi sul palo! Simeone. Ricordo che la partita di ritorno degli ottavi di finale di Coppa UEFA 0-2 l'Inter all'andata. Grande spunto intanto di Ronaldo. Centrocampo, verticalizzazione, gioco di ostruzione su di lui. E sono Giorcaef e Ronaldo in posizione di tiro. Più vicino al pallone Giorcaef, come vedete. Più lunga la rincorsa di Ronaldo. Ecco Ronaldo, destro! Gol! Gol di Ronaldo al ventottesimo. Ronaldo si fa perdonare l'errore dal dischetto e porta in vantaggio l'Inter. Ventottesimo del primo tempo, Gigi Simone in piedi. Ronaldo, attenzione, Giorcaef, tiro! Parata ancora miracolosa da parte di Wenzel. Pallone Giorcaef, tiro! Palla verso West e poi la conclusione di Zanetti ed è gol! Gol di Zanetti. Tre minuti, quattro minuti del secondo tempo. Xavier Zanetti porta l'Inter sul 2-0. Ora situazione di parità. Giorcaef è fuori Simeone, Simeone, tiro! E gol! E gol di Diego Simeone! Giorcaef, tiro! Grazie a tutti Grazie a tutti